Il Duomo di Pesaro ha tributato questa mattina l'ultimo saluto ad Anna Maria Bezziccheri in Renzoni, una donna fortemente radicata nel tessuto imprenditoriale, sociale e politico della città di Pesaro, venuta a mancare lunedì nella sua casa di Soria. Anna avrebbe compiuto 82 anni il prossimo 24 luglio. Fu l'anima fondatrice aggregativa di Forza Italia nella città di Pesaro fin dalla nascita del partito di Berlusconi nel 1994 per poi cedere gradualmente il passaggio di testimone ma senza rinunciare alle sue battaglie anche fino allo scorso anno. Sono state proprio le bandiere di Forza Italia ad accompagnare entrate e uscita del ferretro in cattedrale dove sedevano tanti esponenti della politica del territorio, soprattutto di quella del centrodestra, da Michele Redaelli a Elisabetta Foschi, riferimenti pesarese e provinciale di Forza Italia, all'alleato di tante battaglie Roberto Giannotti, fino agli esponenti dell'amministrazione e rivali di sempre in Consiglio Comunale, il sindaco Matteo Ricci, presidente in fascia tricolore e il presidente del Consiglio Comunale Marco Perugini. L'omelia di donna Valerio Rastilletti ha cercato parole di conforto al dolore della famiglia Renzoni, dai figli Stefania e Giacomo alle nipoti Anna e Emma, che in chiesa hanno esternato ricordi di quella non energica strettamente legata alla sua altra grande passione. Quella del mare, delle barche, della navigazione, della pesca, come testimoniato anche dall'omaggio in chiesa degli esponenti del club nautico, di cui la stessa Anna Maria fu presidente.